Belli sti pantaloni, Geli. La domanda è, come fa Chiara Ferragni? Non mi fanno tutto adesso. Oggi è una di quelle giornate in cui mi sono svegliata depressa, anzi sono andata a dormire depressa, mi sono svegliata ancora più depressa, sono venuta in palestra ad allenarmi anche se non avevo nessunissima voglia e mi ha svoltato completamente l'umore, quindi se posso darvi un consiglio, se vi svegliate di merda andate in palestra, non so come sia potuto accadere però non mi ha funzionato, sarà anche che comunque a Milano è sempre grigio. Guardate chi ha ripreso l'Uber giusto. Buongiorno ragazzi, so many of you always ask me how to take the perfect selfie, but today I want to teach you how to take the perfect leg fee. It's very easy, you just need a good source of light and right elbow to make your leg look long and fit. I have to show you something, these are the boots that I wear every day or almost every day and they are by the Blonde Salad, so you can buy them at this link, hope you guys like them. Guys, I want to show you something new, this amazing new Artemi Delight that I put in my walking closet that makes everything so much brighter, I love it. like a little bit. And let me fühlto something new. The other one our two three 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 four three three seven One three 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 four eight. Grazie.